E adesso arrivati al momento dei più bimbi, dei bimbissimi, dei più piccolissimi, lo Gio! L'abbiamo comprato da Coco Market, dove c'è tutto, pannolini, salviettine, crema di riso, questa è una risposta anche a noi, perché nessuno ci sapeva dire, ci siamo portati tutto, perché nessuno ha saputo darci indicazioni, abbiamo guardato su internet, cercato, forum, niente, c'è tutto, salviettine, creme di riso, biscotti, frutta, tutto come in Italia, pappetta! In questo frangente ci troviamo dentro lo zoo di Bali, esattamente a Ubud, non è uno zoo normale, che sono tutti in gabbia, Addirittura c'è il canguro, gli animali sono liberi, sono abituati all'uomo, hanno una fame sempre della madonna, guardate il canguro, ti piace amore? Ma che stiamo comandando? Mangiano quella roba lì, il canguro. Guarda, questo è il canguro, Aure, attenzione alla coda, ciao! Ciao, bellissimo! Mi hai visto amore? Quello chi è? Quello è il cerviatto, guarda che bello il canguro, ho mai visto il canguro. Il canguro è fantastico, guardalo, guarda il canguro che bello. Come è Mimì? Guarda Mimì! Come è buono, queste cose? Ma è un canguro che bello? Il canguro è bellissimo. Siamo sull'autobus che ci conduce verso il safari sugli elefanti. Guarda gli elefanti, Auri, guarda! Vai, là sotto, vedi? Ehi, cosa vuoi? E l'ho fatto? Allora, lo saluto, non so come si chiama. Dumbo! Dumbo, 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 Dumbo! Siamo arrivati, questi sono gli elefanti. Siete bellissime! Tocca, la vedi. Eh, te l'avevo detto che pungeva, i suoi peli. Ha i peli appuntiti, ma non che punge. Ora, papi! Ah, mamma, ti vengono! Mamma, ti vengono! Hai da mangiare a lui, da? Tieni! Sì, vabbè, quello chi è? Quello che ti guarda? Topo tip! Topo tip? Può essere, eh? Poi c'è la tartaruga di terra, c'è un'area gioco per bambini con altalene, scivoli e poi c'è un'altra area qua con la piscina, quindi volendoti puoi anche prendere il sole e fai un po' di scivoli tutto per bambini. Qua c'è il coccodrillo, attenzione! Non mettete le mani, dicono, perché se no vedi traccia. Guardate dove è il coccodrillo! Auri, vengilo vedere da qua! Guarda dove andiamo! Vedi? È un giro obbligatorio, non ci sono altre strade da prendere, c'è un senso solo di movimento. Guarda le scimmie! Dove è lungo il braccio tuo? Due, tre, quattro, cinque strade sopra di lei! Perché lei è la mamma! È la tigre pianta! Cos'è? Questa è della Malesi? Dov'è questa? Aurora a cavallo! E dentro il Bali Zoo c'è anche questo! Ed è assolutamente gratuito, perché è compreso nel biglietto di ingresso, quindi voi potete entrare, vedere lo zoo tranquillamente e poter entrare qua nel parco acquatico. È piccolino! Va bene solo per bambini! Perché no! Brava! Vai a fare lo scivolo, Auri! Eeeh, brava Noemi che fai lo scivolo! Mamma! Mamma! Guarda! Lei si è svegliata subito! guarda! Arriba! è coraggiosissima mia figlia è coraggiosissima fa tutti gli scivoli nel mondo avete capito adesso? guardate qui che sta arrivando di grande stile è furbo, è come di graffia è coraggiosissima 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 è coraggiosissima